barche piccoline e gente molto di più di quello che potrebbe portare la barchetta e poi capita in mezzo alla rete prendere qualcuno se analizziamo bene la cosa forse in mare ci stanno più cadaveri un barcone che era stato segnalato una quindicina di miglia sud di lampedusa ho capito che qualcosa non andava per il giusto i pescherecci erano stati scelti proprio per affrontare quelle condizioni meteomarine che erano particolarmente avverse se lo zaino è a fondo vuol dire che ci sarà pure padrone dello zaino